I paralipomeni della Tracoma Mecchia è un vero e proprio capolavoro della nostra letteratura. Rappresentano una polemica feroce nei confronti della storia italiana degli ultimi anni. Quindi prendono di mira i conservatori, i clericali, i papalini, eccetera, ma anche i liberali, perché i liberali non hanno capito come stanno andando le cose, si fidano troppo, sono troppo ottimisti, credono anche loro troppo nel progresso. Quindi c'è questo protagonista dei paralipomeni, questo topolino leccafondi, figura alla quale il lettore subito va incontro con simpatia enorme. Questo topolino che vuole salvare le sorti di questo paese, che è ovviamente l'Italia, e fa quello che hanno fatto i suoi eroi, i veri eroi dell'antichità, insomma, che ha fatto Enea. Va negli inferi, va nell'Ade per chiedere ai topi morti, agli eroi morti dei topi, ma che fine farà? Che cosa gli sarà? Perché le rappresentazioni dell'inferno, dell'Ade classica, davano la possibilità ai morti che si trovavano lì dentro di prevedere il futuro. E perfino i topi che non fanno niente, i morti che non hanno nessuna reazione, sono morti del tutto, però ridono di fronte a questo piccolo topolino. Tutto l'ambito della scrittura comica è importantissimo perché come nella tradizione alta e come ancora oggi veicola un pensiero filosofico forte.